Tra i titoli capaci di sfruttare lo sfortunato Kinect di Xbox One in modo significativo, l'ultimo progetto di The Takasueri Sue Hero è sicuramente tra i più interessanti e capaci di vantarsi di un impianto ludico di tutto rispetto. Protagonista di questo nuovo action adventure è l'ex detective David DeYoung, che dopo la misteriosa morte della moglie Peggy, decide di dedicarsi anima e corpo alla ricerca del suo assassino grazie ai suoi misteriosi poteri. Sopravvissuta ad un colpo di pistola alla testa, Young si è infatti risvegliato con la capacità di saltare ritroso nel tempo grazie a particolari oggetti chiamati mementum e appartenuti a una serie di potenziali sospetti. Sin dal suo prologo, The Force piazza il giocatore con una follia tipicamente nipponica, che incolla allo schermo. Quello che inizialmente può apparire come un fin troppo variegato insieme di contesti non farà che prendere forma poco a poco, grazie ad un'eccellente caratterizzazione dei personaggi e ad una struttura narrativa ricca di misteri. A livello di struttura di gioco, The Force non si discosta molto dalla classica impostazione delle avventure grafiche, con specifici punti dello scenario con i quali interagire per portare avanti la propria indagine. A regolare lo sviluppo dell'azione troviamo tre indicatori, che mostrano i livelli di vigore, salute e visione a disposizione di David. La ricerca di indizi utili ad avanzare lungo la narrazione, quindi, avverrà tanto attraverso il ritrovamento di prove e di dialoghi con i personaggi chiave, quanto attraverso un'azione che, anche grazie al supporto di Kinect, è destinata a giocare un ruolo da protagonista. Combattimenti al limite dell'assurdo e minigame di varia natura metteranno infatti sempre alla prova i riflessi del giocatore, impoveriti solamente da una risposta ai movimenti non sempre ottimale da parte di Kinect e da una semplicità disarmante nel design di alcuni minigiochi. Da un punto di vista prettamente stilistico, il lavoro svolto da Access Games non può che definirsi in linea con il design che contraddistingue tutto il titolo. Il particolare effetto cell shading utilizzato dal team di sviluppo, infatti, non fa che sottolineare la natura estremamente irreale della storia, senza togliere mordente ai personaggi più carismatici e riusciti. A questo proposito va sottolineato come alcuni potrebbero mal digerire le stravaganze di chiara matrice nipponica delle quali il gioco è infarcito, ma chi riuscirà ad apprezzare anche il lato più eccentrico di D4 non potrà che riconoscere in esso un punto di forza, capace insieme allo sviluppo di una trama maiavara di rivelazioni, di medesimare il giocatore nel suo convincente universo. Se dal punto di vista delle ambientazioni la bizzarria di D4 non può quindi che essere promossa, sotto il versante tecnico va segnalata una realizzazione generale che per complessità non fa certamente gridare al miracolo, compromessa in modo ancora maggiore da un aliasing estremamente marcato in alcune particolari sezioni. Una menzione la merita sicuramente il lavoro svolto in fase di doppiaggio, seppur contraddistinta da una leggera incostanza nella qualità, infatti, la recitazione riesce a caratterizzare in modo egregio la maggior parte dei personaggi, con una varietà di accenti, intonazioni e cadenze decisamente ben realizzate. La natura episodica del titolo Access Games infine condanna la longevità di questa sua prima uscita, composta dal prologo e dai primi due capitoli della vicenda, ad una durata media complessiva che si aggira intorno alle 3-4 ore. A queste andranno ad aggiungersi quelle eventualmente spese nella rivisitazione dei capitoli alla ricerca di particolari sfuggiti o punteggi migliori nei vari minigiochi secondari, che però non tutti, in un gioco così fortemente caratterizzato dalla sua componente narrativa, sentiranno il dovere di affrontare. Arrivato sullo store digitale di Xbox One quasi in sordina, D4 si rivela una delle migliori sorprese di questo inizio di stagione videoludica. È infatti un peccato che l'abbandono di Kinect da parte di Microsoft abbia parzialmente negato le luci della ribalta a un'esclusiva che gli amanti delle avventure grafiche più votate all'azione non mancheranno di apprezzare. Quello che D4 concede sul versante tecnico e sulla precisione nella lettura dei movimenti del giocatore viene infatti ripagato da una storia affascinante, ricca di situazioni e personaggi surreali, ma dal design convincente, capace di appassionare il giocatore per tutta la sua purtroppo breve durata. È infatti un rapporto longevità-prezzo assolutamente inferiore alla media il principale neo del titolo Access Games, che nemmeno una buona rigiocabilità riesce a compensare del tutto. Ancor più grave rimane il fatto che l'alone di mistero nel quale il giocatore viene lasciato al termine dei primi due capitoli coinvolga anche le sorti della seconda parte della nuova avventura firmata su Eri, meritevole di una considerazione decisamente superiore rispetto a quella attualmente riservata gli dalla casa di Redmond.